Sono capace di affrontare molte diverse emozioni. Posso essere allo stesso momento molto felice e decisamente lamentato. Hanno una rock band, gli manca un batterista e così lo stanno cercando. Coin, primo divertimento, massacrare le donne. Il secondo di loro ha un braccio paralizzato. Beh, un braccio che a quanto pare non può piegarsi. È gay, anche se in realtà non sei una frocia. Il terzo sostiene di essere surdo, anche se a prima vista sembrerebbe cieco. Il suo nome è Ivan e lui è il chitarrista della band senza il batterista. Ma penso che ci sia un piccolo problema a riguardo. Tu non sei handicappato. La band deve esibirsi una sola volta, capito? Allora certo, suonaro con voi. Ho un handicapato tanto importante. Papa Mongoloid, la storia fa che cosa dici? Non puoi cantare più piano, Cristo! Mi spacchi le oregano! Che non ti sopporto! Così è piano! No! Non riesco a sentirmi, Ivan! Non puoi cantare più piano!